Musica Buonasera amici di Globus Television e benvenuti ad una nuova edizione di Globus Sport News, il TG sportivo a cura della nostra redazione. Partiamo subito con il calciomercato perché il Milan continua ad essere il vero e proprio padrone di questa campagna trasferimenti. L'ultimo colpo realizzato dai rossoneri in ordine temporale è quello di Fabio Borini che arriverà dal Sunderland per una cifra di circa 6 milioni di euro. Adesso nel mirino della dirigenza rossonera c'è il turco tedesco Akan Cialanoglu, trattativa col Bayer Leverkusen che è fattibile ma solo a partire da una base di 30 milioni di euro. Ci spostiamo adesso nell'altra parte di Milano, quella in cui risiede l'Inter che è riuscita finalmente a chiudere il capitolo riguardante il fair play finanziario. I nerazzurri avevano tempo fino ad oggi per totalizzare almeno 30 milioni di euro di plus valenze. Detto fatto, fondamentali le cessioni di molti giovani anche se la partenza più rumorosa è sicuramente quella di Ever Banega che torna al Sevilla dopo appena una stagione passata in nerazzurro per circa 9 milioni di euro. La Juventus continua a monitorare la pista che porta a Federico Bernardeschi, un affare che potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane. Infine da sottolineare c'è il colpo della Sampdoria che sta per chiudere l'affare con l'ex Inter Wesley Snyder. Passiamo adesso alla Serie C. Il Catani è sempre più attivo sul mercato. Il prossimo colpo sulla lista di Pietro Lomonaco potrebbe essere Daniel Semenzato. Il terzino del Pordenone potrebbe arrivare già nella prossima settimana anche se c'è ancora da battere la concorrenza di qualche club di Serie B. Per l'attacco è sempre d'attualità il nome di Arma, ma attenzione anche alle alternative. Una porta il nome di Luigi Castaldo dell'Avellino, ma attenzione anche a qualche nome a sorpresa dell'ultima ora. Notizia positiva per quanto riguarda le siciliane arriva dalle altre squadre che parteciperanno al campionato di Serie C. Perché l'Acragas infatti, nonostante i grossi problemi economici che l'attanaiano, è riuscito ad iscriversi al prossimo campionato. Una vera e propria impresa, quella realizzata dai presidenti della squadra bianca-azzurra Giavarini e Alessi. Insomma, la rappresentanza siciliana nella terza serie continuerà ad essere molto nutrita, considerato appunto il Catania, l'Acragas, il Trapani, il Messina, il Siracusa e la neopromossa Sicula Leonzio. Chiudiamo adesso con la MotoGP. In programma per questa domenica c'è il Gran Premio di Germania al Saxen Ring. Dopo il successo in Olanda d'Assen di Valentino Rossi, adesso il dottore cerca il bis e la vetta della classifica mondiale dei piloti, occupata al momento da Andrea Dovizioso. Attenzione però anche a Vignales e Marquez. I due spagnoli che hanno attraversato un periodo un po' complicato saranno sicuramente agguerriti per tornare in corsa per il titolo mondiale. Era questa l'ultima notizia di oggi, vi ricordiamo che per rimanere aggiornati su tutte le notizie sportive potete collegarvi col nostro portale www.globusmagazine.it Un saluto dal vostro Niccolò Marchese e buon proseguimento con i programmi di Globus Television.